Ieri, con l'abbandono della maggioranza da parte di Forza Italia, si è chiusa la stagione delle larghe intese. Doveva durare circa due anni, si è interrotta a meno della metà, dopo sette mesi. Quelle larghe intese che consentirono l'elezione del Presidente della Repubblica e il varo del governo Letta sono diventate molto strette, appena cinque voti. Sono il margine di consenso che Letta conserva sulla carta al Senato. È probabile che nel tempo possa aumentare, ma se non dovesse essere così, è molto più probabile che dalle larghe intese si passi inevitabilmente alle intese impossibili e quindi al governo impossibile. Letta però sembra fiducioso. È convinto che la sua maggioranza, meno larga, adesso sia più coesa, più forte. Non può che essere così all'inizio. Bisognerà vedere tra qualche settimana se ci sarà lo stesso entusiasmo, se ci sarà lo stesso spirito, la stessa coesione. Dopo il congresso del suo partito, ad esempio, quando sulla scena irromperà un certo Renzi che minaccia di dettare regole destabilizzanti per quel clima sereno di cui ha bisogno il governo Letta per sopravvivere. Se non fosse che la legislatura è troppo giovane per essere mandata in pensione, ci sarebbero oggi tutte le condizioni per pensare ad elezioni anticipate. Il Parlamento ovviamente le eviterà ad ogni costo, perché quello scranno piace a tutti. Ma siccome in sette mesi, cioè dalle elezioni passate, la situazione politica italiana, la realtà politica italiana è radicalmente cambiata, con partiti che si sono divisi, che non ci sono più, insomma con maggioranze che non esistono più, è radicalmente trasformato il panorama politico italiano dopo appena sette mesi. Beh, se la situazione è questa, e purtroppo è questa, forse quello del ritorno alle urne non sarebbe il male peggiore.